Mister ci siamo, adesso è arrivata la fase calda, dopo la preparazione intensa la vediamo anche rilassata perché c'è stato un momento in cui era molto più teso ma una tensione giusta, quella di capire schemi, uomini adesso che il quadro è completo e c'è il primo impegno ufficiale, qual è un po' lo stato d'animo di Sebi Catania? abbiamo fatto un grande lavoro in questo periodo, ho quasi due mesi che sono qui abbiamo lavorato in sinergia con la società, con il direttore, con Alessandro, con Faustino che siamo quelli che nell'aspetto tecnico è quello che siamo stati più vicini e consapevolmente anche con una società che lavora alle nostre spalle e non ci fa mancare nulla nominarli tutti era un po' difficile, però abbiamo alle spalle una società che non ci fa mancare niente sotto tutti i punti di vista, per cui è chiaro che la mia serenità deriva da questo io in questo momento ho pensato solamente a lavorare, a lavorare sul campo che è la cosa che mi compete e quello che compete pure i ragazzi siamo sereni perché siamo consapevoli del lavoro che abbiamo fatto nel costruire questa squadra non abbiamo inventato, non abbiamo improvvisato nulla, per cui i ragazzi hanno fatto secondo me un grande lavoro in preparazione e continuano a farlo pure dopo per cui si attende questo primo impegno ufficiale che secondo me è la squadra più scomoda che ci poteva capitare, perché il Camarat è oltretutto allenato da Renato Maggio che è un mio grandissimo amico, io so le qualità che ha lui, che ha soprattutto nella società per cui è una squadra giovane che ci darà sicuramente filo da torce Questo mercato che è stato caratterizzato da diversi acquisti, riconferme e la cosa che ci è piaciuta è che chi si è aggregato è rimasto non ci sono stati casi come in altre squadre di giocatori che magari in certa preparazione poi sono andati via, vuol dire che si sta bene in casa Canicattì? Ma guarda, la società, io non voglio essere ripetitivo perché comunque sono uno che le cose le dice le dice in maniera chiara, per cui non voglio essere ripetitivo siamo in una città dove personalmente vivo benissimo mi sono ambientato in poco tempo così come io, così come i ragazzi quando tu programmi le cose, le programmi in una certa maniera e vuoi prendere i giocatori che ti servono io credo che non c'è bisogno di fare i giocatori che lasciano, i giocatori che tornano quello secondo me è una struttura confusionale noi non guardiamo in casa di altri quello che succede in casa, guardiamo in casa nostra noi abbiamo fatto un progetto tecnico, abbiamo preso i giocatori che ci servono abbiamo riconfermato i giocatori che servivano a questo progetto per cui siamo contenti che non siamo come in altri posti è chiaro che un giocatore per rimanere in questa categoria ha bisogno di tante cose ma soprattutto ha il bisogno di stare bene anche fuori dal campo qui credo che si stia non bene ma di più per cui ora dipende solo e esclusivamente da noi dare il 1000% in campo perché è quello che dobbiamo dare e soprattutto avere dei comportamenti che sono da giocatori professionisti e non da giocatori direttanti, soprattutto fuori dal campo